Lei non parla, lei spiega e poi interroga, cioè non è un dialogo del tipo Allora, te lo dico già, domani andiamo via, mi raccomando E tu dici, ok, sai che l'uomo fa, noi abbiamo, si, ok, si, se ti chiede cosa ha detto e tu Cosa ha detto, non è che siamo tutti dei deficienti, ti dici Certo che lo siamo dei deficienti, siamo uomini, è ovvio Amor, è arrivata mia nonna, mi ha detto che quando era giovane ha soffetto perché in guerra un tedesco approfittò di lei Quando sopra le montagne un battigiano approfittò di lei, poi arrivarmi gli americani un americano approfittò di lei Azz, se ne ha visto bene la nonna, eh Poverina, amore, povera nonna, la nonna si è fatta tutta la guerra Eppure tutti i soldati Ancora devi suonare E questa vuole riaprire Non lo sai che ogni giorno vengo di giuno? Ah, è pronta la colazione, che è tardi Non puoi venire a fare colazione ogni giorno a casa mia, te ne rendi conto oppure no? Ma dovete mandare al bar, i corretti sono pesanti, pieni pieni di burro Ma questi al bar li prendo? E' un basato all'aria di casa Ma è casa mia Ma sei venuto per litigare? Tu sei venuto? Che sei pignolo, sono venuto per litigare Che sei pignolo, sono venuto per litigare? Che sei pignolo, sono venuto per litigare? Che sei pignolo, sono venuto per litigare? Che sei pignolo, sono venuto per litigare?